Chi aveva interesse ad uccidere Angelo Carità? Una vendetta? Sono arrivata ad una svolta le innagini per l'omicidio di Angelo Carità avvenuto il 2 aprile scorso, giorno di Pasquetta, a Licata. Le approfondite innagini dei carabinieri hanno portato ad individuare alcuni soggetti che sarebbero a conoscenza dei fatti che si sono conclusi con l'uccisione dell'imprenditore agricolo di 61 anni. Nei giorni scorsi in procura da Grigento sono stati tenuti dagli interrogatori e al termine di questi interrogatori il procuratore aggiunto Salvatore Vella e sostituto Simona Faga, che coordina un'inchiesta, hanno disposto l'iscrizione nel registro degli indagati di due soggetti. L'accusa è omicidio doloso in concorso e detenzione illecita di arma da fuoco. Angelo Carità era stato condannato all'inizio del febbraio del 2017 dalla Corte di Assise di Grigento all'ergastolo con isolamento diurno per un anno per il delitto di Giovanni Brunetto. Carità, sui stanze dei difensori, gli avvocati Vincenzo e Antonino Gaziano, era stato poi scarcerato per decorrenza dei termini. Subito dopo l'omicidio di Carità, il procuratore raggiunto Salvatore Vella, che nel processo di primo grado a carico dello stesso Carità rappresentato l'accusa, pare che abbia rispolverato il fascicolo veramente mai archiviato, visto che alla fine dello scorso aprile sarebbe dovuto partire il procedimento d'appello del delitto Brunetto. Il riservo di investigatori e inquirenti circa eventuali comparazioni fra i due omicidi è rimasto in tutti questi mesi fitto, anzi fittissimo.